Per le giornate del FAI si è scelto di scoprire Primolano, Primolano come terra di confine tra il mondo del nord trentino, verso il mondo tedesco, e naturalmente il Veneto, quindi verso il mondo italiano. Qui ancora, nella prima guerra mondiale, fin quando scoppiò, c'erano 26 tra osterie e alberghi, insomma proprio ci si continuava a scambiare persone, idee, movimenti. Tutto iniziò con questa chiesa fondata da Carlo il Grosso, stiamo parlando del IX secolo. Almeno sei sono le volte che si è messo mano dai tempi di Carlo il Grosso per rifare la chiesa di San Bartolomeo. Il 13 ottobre verrà aperta, nell'ambito delle giornate del FAI di autunno, uno scrigno, il bellissimo tabernacolo in pietra quattrocentesco, poi le opere linee restaurate dopo l'alluvione del 66, e l'equilibrio e la serenità di un edificio con opere molto importanti e per nulla banali. E qui la cinquecentesca pala dei nasocchi con i suoi tanti significati, come era uso nel Cinquecento, i suoi tanti simboli, e poi sullo sfondo del paesaggio la tagliata di Primolano. Eccola la tagliata di Primolano nel quadro, ed eccolo fuori, il borgo così vero, così sorprendente, nei suoi tesori da scoprire passo a passo, svelati lentamente, compresa la rimessa delle locomotive che fa parte delle proposte FAI di domenica. Qui passa la via Regia, qui sono passati i grandi imperatori, il nome ultimo più importante è Napoleone, e sempre si sono fermati in questo piccolo borgo storico. Io lo chiamo borgo, più che paesino, altre cose, perché è proprio un borgo. Qui c'è una tranquillità, una gioia di appartenere a questo luogo, una storia che va dalla Serenissima ai giorni nostri, che rimane incantato. Perché venire a Primolano? Perché ve lo diciamo con il cuore, venite a scoprire ancora questo lembo di terra di confine. Il leone di pietra ricorda il legame indissolubile con la Serenissima, e i portoni si dischiudono ancora sulla storia da riscoprire.